Tanti i politici terramani, tra cui l'ex senatore e deputato Paolo Tancredi, Gabriele Minosse, ex segretario del PD terramano, presenti ieri pomeriggio a Roseto, presso il Palazzo del Mare, per ascoltare l'intervento di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, che da poco ha aderito al nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Italia Viva nasce alla Leopolda il 18-20 ottobre. Oggi facciamo un'altra iniziativa con tanti amici, con Tommaso, per dare il segno di questo percorso che stiamo facendo, che è un percorso che vede fortunatamente tante persone che aderiscono, veramente tante, questo ci riempie di soddisfazione. L'iniziativa dal titolo per l'Italia Civile è stata organizzata dal Comitato di Azione Civile Ritorno al Futuro, presieduta da Tommaso Ginobile, uno dei primi a credere nel nuovo movimento renziano. L'allargamento della proposta del centro-sinistra per contrastare sempre meglio la rozzezza del centro-destra, esso articolato in più aree. Io credo che la nascita di Italia Via possa aiutare lo stesso PD e cercare di attrarre coloro che magari non si riconoscono nel PD ma che vogliono partecipare. C'è una prateria aperta al centro per quale motivo non percorrerla. Possiamo superare la doppia cifra con un po' di pazienza, un po' di lavoro e tanta passione.